Ciao ragazzi, ultimo pre-partita del campionato, attenzione, del campionato non in generale perché l'Inter a differenza di altre squadre deve giocarne pure un'altra di partita fondamentale ma ne parleremo. Adesso stiamo concentrati su questa partita, quindi sul Torino e l'ultima di campionato che per quanto l'Inter sia matematicamente in Champions non si può mai sapere, sapete che c'è il discorso Juve ancora comunque in bilico. E quindi bisogna comunque fare una partita discreta e a parte quello che anche se la Juve fosse confermato la penalità e tutto quanto c'è da dire che vorrei che l'Inter finisse il campionato davanti al Milan perché per più motivi, il primo la rivalità, siamo davanti al Milan eccetera. La seconda cosa è che non voglio sentire in giro che si dica che l'Inter è andata in Champions perché la penalità alla Juventus. Ecco, quindi spero che l'Inter possa finire almeno terza. Ecco, poi in realtà io speravo potesse finire anche seconda ma hanno regalato un rigore alla Lazio contro l'Udinese una settimana a Vana e vabbè, lasciamo stare. Comunque a parte questo, andiamo un po' sulla partita, sulla formazione, vi dico come gioca il Torino perché l'ultima partita sì, le sorti sono quelle, cioè nel senso il campionato è un po' già scritto, però comunque io voglio dire come al solito, come gioca il Torino, i punti di forza, punti deboli eccetera eccetera. Quindi andiamo ad analizzarlo. Il Torino è una squadra che gioca con il 3-4-2-1, questa cosa vi ricorderà sicuramente il Verona, vi ricorderà sicuramente l'Atalanta, squadre che giocano con questo tipo di modulo. Non a caso Juric ha allenato il Verona e è allievo, è stato allievo e è allievo di fatto di Gasperini. Ricordo che ai tempi dell'Inter, quando venne Gasperini all'Inter, Juric doveva essere il vice, il secondo allenatore, pensate voi. Quindi diciamo che il filone è un po' quello, attenzione che però Juric ha preso spunto da Gasperini però non è uguale a Gasperini, ha un po' evoluto, diciamo che ha preso spunto però poi l'ha adattato questo 3-4-2-1 alla sua visione di calcio. E Juric rispetto a Gasperini è un po' più equilibrato, un po' più strutturato nell'interpretare il 3-4-2-1, ha molto più equilibrio, è un po' più difensivo se vogliamo e diciamo mette meno l'accento sul possesso corto, sul palleggio corto e lo scambio di posizioni dei giocatori. Ecco, quindi è un po' più ostico e quindi è anche più solito vedere partite non bellissime dal punto di vista estetico quando si gioca col Torino. Un po' come, anche un po' col Verona, se devo essere sincero, un po' questa cosa è rimasta anche al Verona. Sulla formazione vedete che ci sono vari giocatori, alcuni titolari, altri no, e questo ve lo spiego in una sintesi. È l'ultima e ci sta a far giocare anche sicuramente delle riserve, però secondo me è giusto anche arrivare all'ultima partita poi della stagione, quella della Champions, con i giocatori al massimo della forma fisica e della condizione, del ritmo partita. Quindi io spero che i titolari semplicemente si dividano in due blocchi. Siccome abbiamo 11 giocatori in campo, 10 di fatto di movimento, ci sta a partire magari con 5 titolari e 5 farli subentrare al posto dei 5 che hanno iniziato la partita. Vedete infatti Bastoni, c'è Darmian, c'è la Noglu, sicuramente, Lautaro magari, no, o Lukaku, uno dei due. Insomma, ci sono dei titolari che iniziano e altri che spero possano subentrare dopo, proprio al posto di questi qui che magari invece dovranno uscire. In questo modo faresti ruotare le energie, tutti stanno in condizione partita, però nessuno rischia facendosi 95 minuti all'ultimo di campionato, eccetera, eccetera, magari rischiando affaticamenti, indolenzimenti o altre cose. Secondo me questa è la cosa perfetta per la partita di domani. Oltre a questo è chiaro che poi le riserve, i giocatori che magari hanno giocato un po' meno in questo campionato, hanno un'occasione di farsi vedere. Io sfrutterei questa cosa anche per dare qualche stimolo, perché sennò c'è il rischio che la partita di domani sia un po' una passeggiata, manchi di stimoli e magari poi non si attiene neanche al risultato, no? Quindi spero che si punti su alcuni giocatori, Aslani, Bellanova, eccetera, Gosens, in modo tale che possono dare il loro contributo e farsi vedere anche in ottica mercato, perché alcuni di questi sono sul mercato, altri invece bisogna capire se riscattarli oppure no, altri, come Aslani, bisogna invece capire se puntarci come vice reale del regista dell'anno prossimo, oppure magari ha senso darlo via in prestito, cioè ecco, bisogna un po' ragionarci su queste situazioni, quindi hanno l'occasione di farsi vedere. Poi è chiaro che i giocatori che ho messo hanno anche una loro funzione tattica, non è che li ho messi così solo per la gestione delle energie, ma per esempio Gosens, Bellanova li ho messi perché per come gioca il Torino possono essere giocatori utili. Andiamo poi appunto a spiegare come gioca il Torino. Allora, il Torino gioca con un 3-4-2-1, dicevo appunto Iuric, allievo sicuramente di Gasperini, adattandosi un po' in maniera un po' diversa in base al suo stile di gioco in questo modulo. I punti di forza del Torino sono principalmente l'alta intensità, soprattutto a centrocampo, e con il fatto poi che hanno quattro giocatori in mezzo, due mediani e due trequartisti, sfruttano molto quella zona del campo lì, sia nel fraseggio, ma anche nel pressing, nel recupero della palla, nel cercare di vincere i duelli individuali, eccetera. Quindi sono molto intensi in mezzo, hanno una grande capacità di limitare la squadra avversaria difendendo sotto palla, mettendosi tra le linee di passaggio e stando abbastanza bassi come baricentro, quindi ti imbrigliano, ti contengono molto, hanno una grande solidità difensiva, perché il Torino è una squadra che, diversamente da noi, che usiamo degli esterni molto alti, veramente a tutta fascia, gli esterni del Torino sono un pochino più difensivi. Sì, si possono anche inserire, diciamo, in area avversaria, però tendenzialmente partono da una posizione un po' più bassa, rispetto a come siamo abituati a vederli all'Inter. E questo, tra l'altro, facciamo una piccola parentesi su Singo, sapete che è un giocatore che io ho anche citato possibile, così, come profilo per l'Inter, per quel ruolo lì, che adesso è ricoperto da Dumfries. Io penso che Singo, per esempio, sia un giocatore che non è sfruttatissimo al Torino, proprio perché gli viene chiesto di fare un ruolo un po' abbastanza difensivo. Quando lui è un giocatore che comunque salta un pochino più l'uomo rispetto a Dumfries, è ancora più abile di testa, perché è ancora più alto, ancora più stacco di Dumfries, e potrebbe fare molto meglio in fase offensiva. Quindi attenzione anche a gestirlo, però ecco, questo spiegherebbe perché non è completamente esploso al momento al Torino, per quanto, secondo me, abbia potenzialità di far bene. Ecco, dicevo, il Torino, tornando a noi, è una squadra che usa gli esterni un pochino, in maniera un po' più equilibrata rispetto a noi. Poi, hanno una organizzazione in tattica super strutturata, e questo significa che raramente i giocatori si scambiano, pensate all'Inter, no? Ma anche un po' all'Atalanta, giocatori che spesso si scambiano di posizione, il terzo va a fare il braccio, scusate, il terzo di difesa va a fare il quinto, il quinto che va a fare la seconda punta, e magari invece la seconda punta che si decentra va a fare l'esterno, e la mezzala che si mette in posizione da difensore per prendere il pallone, da noi c'è tutta sta cosa. Nel Torino, invece, c'è un'organizzazione molto più strutturata. Questo, chiaramente, dà dei punti di forza, cioè che sono molto ordinati in campo, è difficile trovarli fuori posizione, dà anche, però, se vogliamo, dei punti di svantaggio, di debolezza, poi ci arriviamo. L'ultimo punto di forza importante del Torino è che hanno una difesa a zona, tendenzialmente, però molto aggressiva nei duelli. Sono molto bravi, hanno difensori, a parte Shur, che è un po' più, diciamo, tipo De Vrij, no? Giocatore che va anche in copertura, che sa anche impostare, tendenzialmente hanno poi due braccetti che vanno molto in anticipo e che vanno molto sull'uomo a marcare forte, aggressivi, e sono molto forti proprio nei duelli fisici, nei duelli aerei, nei duelli proprio nel contatto con gli attaccanti. Quindi sono molto tosti. I punti di debolezza non sono tantissimi, però sono abbastanza importanti, secondo me. Il primo è che sono, un po' come l'Atalanta anche, sono poco prolifici con la prima punta, e questo è un po' una caratteristica del 3-4-2-1, che a me è un modulo che non fa impazzire, devo essere sincero, l'ho già detto tante altre volte, e ho anche spiegato il perché in altre situazioni. Quindi spesso la punta è un po' isolata, tra l'altro il Torino non ha neanche una vera e propria prima punta forte, fisica, pensiamo a o il Lund dell'Atalanta, o Zapata, eccetera, o i Juli c'è anche il Verona, hanno una punta che, insomma, ha un po' più di movimento. Questa cosa sicuramente non dà punti di riferimento alle difese avversarie, però è anche vero che se è isolata fa ben poco, cioè non è forte fisicamente, insomma, è anche da sole in reparto, a meno che non arrivino i rifornimenti dai trequartisti, e quindi ci sia uno scambio, o degli evai, eccetera, sono poco prolifici davanti. Però è anche vero che hanno una buona difesa, quindi è anche difficile fare gol. Ecco perché dicevo all'inizio che le partite contro il Torino raramente sono gran belle partite, o poi magari è l'ultima partita, si gioca fisso aperto, non lo so, però tendenzialmente aspettiamoci una partita un po' di quelle un po' tetre, ecco. E un altro punto di debolezza forte, che deriva da un punto di forza, in realtà, è che hanno una costruzione, proprio perché non si muovono molto e sono anche molto equilibrati, molto difensivi, hanno una costruzione delle azioni che è molto poco fantasiosa, spesso è prevedibile e a volte se non riescono a scambiarsi il pallone e insomma sono pressati bene, eccetera, sparano un po' la palla lunga. Cercano dei passaggi molto diretti davanti, però non avendo grandi punte fisiche, forti e quant'altro, buttano via un po' la palla. Ecco, quindi non è che dominano il possesso palla tendenzialmente, creano tantissimo. È una squadra un po' appunto poco prolifica, un po' avara di occasioni. rispetto all'Inter che invece crea molto, eccetera. Quindi questo spiega anche il perché, per esempio, punterei su Bellanova domani, no? Avendo il Torino, che è una squadra che si chiude molto, concede molto poco in difesa, eccetera, e sta anche abbastanza bassa, ecco che magari Bellanova, con qualche spunto, dato il fatto che deve anche farsi vedere, eccetera, potrebbe essere anche una soluzione interessante, no? Potrebbe avere qualche spunto buono davanti, qualche uno contro uno, sfidare magari l'esterno, essendo che c'è uno contro uno sugli esterni, no? Potrebbe sfidarlo magari in velocità, non sarebbe male, non sarebbe male andare su Bellanova. Se non dovesse giocare a Bellanova domani, secondo me, ahimè, temo che sia... Temo che voglia dire che poi non lo rivedremo neanche più all'Inter, perché sarebbe un po' una bocciatura. Se all'ultima partita della stagione non andiamo su Bellanova, in una partita così, ho paura che il riscatto sia in dubbio. Comunque, a parte quello, poi, vabbè, Gagliardini, nonostante abbia fatto male, sia stato espulso, adesso ritorna, ma deve giocare, anche perché abbiamo bisogno di dare minuti a Parella, a Brozovic, a Celanoglu, quindi vanno dosate le energie, con Mkhitaryan che è in ripresa, però attualmente è ancora fuori, facciamolo giocare. Mi dispiace che debba giocare a destra, Gagliardini, in questa idea, perché, perché dalla parte di Bellanova sarebbe carino avere qualcuno che gli dà qualche pallone in profondità, che gioca con lui, visto che Bellanova gioca molto di più la palla rispetto a Dumfries, però questi sono i giocatori che abbiamo attualmente. Aslan, secondo me, può fare bene in mezzo, perché non dovrebbe avere giocatori in marcatura pura su di lui, e quindi, essendo un giocatore che non è come Brozovic, che si smarca facilmente, domani, non avendo questo problema, magari può comunque farsi valere. Cialanoglu può tranquillamente iniziare la partita e poi, magari, può subentrare Brozovic al suo posto, con Aslani che fa la mezzala, Brozovic gioca ovviamente davanti alla difesa. Davanti, secondo me, Lautaro e Lukaku sono la coppia assolutamente titolare per domani, magari poi, potremmo risparmiare qualche minuto o a Lukaku, facendo subentrare a Dzeko, oppure a direttamente Lautaro, che è super candidato per un posto a titolare nella finale di Champions, e quindi magari Lautaro, 90 minuti, è meglio non farglieli fare. Quello si vedrà, i cambi sono 5. Peccato non avere un braccetto in più, perché magari Darmian poteva farsi anche lui un attimo di riposo, però tutto sommato, questa è l'idea, questa è l'idea della partita. Ragazzi, io vi saluto, vi non neanche ricordate di lasciare like al video, lo faccio adesso in fondo, commentate la vostra, ci vediamo ovviamente domani dopo la partita con questa ultima turnata di campionato e vediamo poi come l'Inter finirà alla fine in classifica, che è una cosa che comunque ci interessa, per quanto non ci giochiamo nulla, ma insomma, per me è comunque importante, spero che l'Inter domani possa comunque portare punti a casa. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter!